Il viadotto Moranti continua a far parlare, purtroppo in modo negativo, di sé e questa volta le criticità che sarebbero state rilevate sono state portate all'attenzione nazionale. A richiamare l'interesse dei media è stata l'associazione ambientalista Maramica Grigento. Il presidente Claudio Lombardo, ai microfoni del Tg1, ha denunciato le precarie condizioni della struttura, il cui cemento dei piloni cedendo ha lasciato in bella vista i ferri e mostrato, sottolinea Claudio Lombardo, come dentro gli stessi ci sia il vuoto. A rincarare la dose ci ha pensato anche il sindaco di Grigento, Calogero Firetto. Rivendichiamo con forza un intervento immediato, ha affermato il primo cittadino di fronte alle telecamere del Tg1. Si sappia che molti nostri concittadini, da sei mesi a questa parte, non transitano lungo il ponte, ma preferiscono percorrere vie alternative. L'ANAS, dal canto suo, stando a quanto asserito dalla giornalista Giovanna Cucè durante il servizio andato in onda ieri sul Rai 1, ha assicurato che il ponte è perfettamente in grado di sopportare il carico e che i primi interventi saranno sulle travi laterali, anche se non sia ancora una data certa sull'inizio dei lavori. Una storia che non finisce qui, dunque, e che lascia presagire come in futuro si tornerà a parlare, si spera finalmente una volta per tutte, sulle condizioni del viadotto Morandi.